va bene non posso più il classico ma come va non è un po' maus vai 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 metti i ganci è che uto eh è tuo gira Roby metti i ganci metti anche l'altro ganci metti anche l'altro sali sali e metti anche l'altro sali e metti anche l'altro vai 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 si 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 buono 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 il volo fatto hai imparato a carire sono fuori i tronisti che hanno fatto è andato avanti è vinto contro uno Roberto subito ci cittura è normale che sia lui vai cittura di nuovo di nuovo sali sali ok tienilo tienilo in guardia tienilo in guardia tira il passo non fatti fare postura tienilo bravo guarda quel braccio là tienilo in guardia la testa guarda quel braccio dritto là tienilo in guardia la testa bravo 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 guarda che l'ha scassato dai già ti prendo meno un po' c'è un po' c'è un po' poi accendi l'interruttura e ci accendiamo e ci accendiamo poi prendi il passaggio e tirano all'altro giro, 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 bravo lavora della mezza vai in profonda vai in profonda vabbè ma io lo facevo scherzare ci manca uno e poi ci riserva meglio non lo facciamo scherzando non lo va pendolo vai, gira, gira guarda per tre postura metti cross-space entra sotto spalla cross-space sempre 3 a 0 metti cross-space 6 a 1 8 non lo farei andare sotto non lo farei andare sotto bravo esci di là esci di là ok, passa passa qui sopra con il tagano non lo farei, non lo farei non lo farei, non lo farei contro uno di questi due litri 30 secondi tu Paolo che fai? tu Paolo che fai? e tu ti faccio dire che cazzo che ti fai? ma lui a sanzo sta mangiando tutto basta più stai l'asta che non sei più stai sperando delle risposte non ci fa controllo ma non ci fa controllo mancano di più manda sotto la forma dai cosa fai? grazie 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 bravo guarda in alto non la testa giù guarda in alto poi sono tu tempo tempo vince e fa dire il finale peggio Montella terzo classificato